Buongiorno, sono Sergio Cantini della MuzSRL di Genova. Abbiamo accettato con piacere questi incontri dove presenteremo anche la nostra attività che deriva essenzialmente dall'Università di Genova e vuole sviluppare proprie idee che possano scaturire all'interno della facoltà sui vari dipartimenti, ma chiaramente in questo caso orientati alla Blue Economy, al mare, per spiegare bene quello che noi facciamo e far capire a eventuali candidati che possano rivestire qualche posizione nella nostra struttura cosa facciamo. È molto importante perché la nostra attività spazia in molti campi delle competenze che si possono generare nell'ambito della Blue Economy, dalla semplice elettronica alla subacquea, alla fluidodinamica, all'economia stessa. Quindi è veramente molto interessante e penso che la nostra attività abbracci completamente quelle che sono le molte ramificazioni della Blue Economy. Quindi siamo veramente contenti di essere qui e poter incontrare candidati.